ciao ragazzi bentornati sul canale prima di cominciare questo video vi ricordo che sotto questo video vi metterò il link di un video che ho fatto ieri su 9 e dico 9 così nomi interessanti da andare a prendere con gli scambi ovviamente magari non tutti e 9 però qualcuno di questi potrebbe essere interessante per il vostro fantacalcio detto questo ragazzi vi ricordo solamente un like i like portano bene tutti quelli che mettono sempre like ai miei video vi dicono che vincono quindi mi raccomando un bel pollicione e in più ragazzi se non siete già iscritti al canale mi raccomando iscrivetevi che viaggiamo verso quota 3000 iscritti ne mancano un paio di centinaia detto questo andiamo a vedere ragazzi i tre portieri e cinque difensori da schierare assolutamente per la ventitresima giornata di campionato allora partendo con i tre portieri vi dico il primo nome che ho messo è pepe reina è vero che a milano ha preso tre gol ma giocava contro l'inter secondo me sta facendo una stagione molto positiva infatti era stato preso all'inizio come secondo di stragoscia ma poi sia per problemi fisici ma anche perché ogni volta che gioca gioca veramente bene è diventato il tolare nella lazio lazio-sampdoria secondo me è una partita in cui al massimo potrebbe subire un gol e questa settimana essendoci partite importanti come il derby milan inter l'ho messo tra i primi consigliati il secondo nome in porta è mattia per in anche questa settimana ha fatto bene torino torino genoa 0 a 0 un altro clean sheet e da quando è arrivato ballardini penso sia il miglior portiere in termini di clean sheet perché ne ha fatti veramente tantissimi detto questo ci sarà genoa verona non una partita semplicissima perché il verona sta facendo veramente bene però io io l'ho voluto mettere anche perché per in come portiere non mi è mai dispiaciuto per tutte queste cose lo inserisco anche perché il verona si è un'ottima squadra che fa punti ma non è una squadra che fa tantissimi gol magari tante partite le vince 1 a 0 2 a 1 quindi per in l'ho voluto mettere ultimo nome un po diciamo a sorpresa visto tutti i gol che prendono è Cragno Alessio Cragno lo metto perché in Cagliari Torino è una partita sicuramente molto molto importante per entrambe le squadre diciamo che il Cagliari nell'ultima giornata nonostante abbia perso 0 a 1 con l'Atalanta non mi è non mi è dispiaciuto secondo me ha fatto un'ottima partita e quantomeno il pareggio lo meritava però ovviamente vince a ragione chi segna e purtroppo il Cagliari non l'ha fatto l'Atalanta all'ultimo con il buon Muriel sì ho messo questi tre anche perché come portieri mi piacciono quindi settimana sono proprio contento per questi tre portieri consigliati andiamo ora a vedere i cinque difensori il primo nome che ho messo è quello di Mancini in Benevento Roma secondo me è uno di quelli che potrebbe timbrare l'ho messo anche settimana scorsa beccando un bel 7 più 1 8 e lo ripropongo perché innanzitutto non ci sono tantissime partite diciamo abbordabili partite sono tante partite equilibrate quindi lui secondo me è uno di quelli che può fare bene da qui in avanti e mi piace perché è forte sia sui corner o sulle punizioni perché di testa è uno dei più forti della serie A e anche il fatto che ora che ora che giocando a tre dietro come faceva l'Atalanta ha ricominciato a fare bene da un bel po' di partite quindi Mancini primo nome secondo nome Godin ragazzi secondo me se non è questa la prossima quanto prima lui porterà un più tre ai suoi possessori oltre questo in Cagliari Atalanta secondo me è stato il migliore del Cagliari dietro non ne ha fatto passare mezza l'unico l'unica l'unica cosa è stato quel gol di Muriel ma credo che lui abbia poche poche responsabilità perché finché ha preso Duvan Zapata non gli ha fatto praticamente toccare palla e oltre questo come vi dicevo anche lui come Mancini di testa è pericolosissimo è pericolosissimo perché è uno dei migliori ricordiamo all'Atletico quanti quanti gol aveva fatto su palla da fermo quindi Godin secondo nome come difensore il terzo nome ho voluto premiare un difensore che secondo me sta facendo un'annata strepitosa nonostante dovesse doveva essere un difensore neanche titolare e sto parlando di Danilo della Juventus sicuramente anche questa settimana sarà titolare in Juventus Crotone anche perché Quadrato si è fatto male quindi non è chissà quale alternativa Andrea Pirlo quindi l'ho voluto inserire poi ovviamente la partita è molto dovrebbe essere sulla carta molto semplice quindi sicuramente ci può portare un buon voto e chissà lui ogni ogni tot di partite un bonus o in termini di assist o in termini di gol lo porta e quindi per queste ragioni l'ho voluto ho voluto provare questo nome il quarto nome ragazzi che ho messo è diciamo sempre un nome un po' più meno meno di grido sempre quindi ho messo Marusic non ricordavo più il nome ho messo Marusic della Lazio Lazio Sampdoria c'è il dubbio di Lazzari perché io l'avevo sentito in diretta per dire la verità ha pronunciato una frase blasfema diciamo così si è sentito su Sky quindi immaginavo che c'era che c'era ci potesse essere un provvedimento oggi si pronuncerà il giudice sportivo quindi avrei voluto mettere Lazzari ma potrebbe saltare per squalifica quindi ho messo ad Ammarusic potrebbe giocare quindi a destra se non ci fosse Lazzari o comunque a sinistra sta rendendo bene anche diciamo se lui è un destro quindi si trova meglio al posto di Lazzari però anche se si gioca a sinistra secondo me è un buon è un buon difensore anche perché gioca più avanti come come quinto di centrocampo e ha fatto ottime prestazioni condite da qualche gol qualche assist quindi se lo avete Marusic secondo me va schierato assolutamente anche perché Lazio Sampdoria la Samp dietro qualcosa concede sempre sicuramente Ciro Immobile o Correa o chi ci sarà al fianco di Ciro vorranno fare gol visto che in Inter Lazio gli attaccanti sono stati sono stati all'asciutto quindi Marusic consigliato ultimo nome ragazzi che ho messo dei cinque difensori è Mattia Bani c'è Parma Udinese sicuramente una partita che per il Parma diciamo assume un valore importantissimo perché se il Parma non fa punti neanche con l'Udinese non prende tre punti Parma rischia veramente di non risalire più e Bani l'ho messo perché ieri in Verona Parma secondo me è stato tra i più positivi del Parma diciamo che il Parma non è che abbia fatto chissà quanto bene però magari tra quelli che possiamo salvare c'erano lui, Cuccioca e pochi altri quindi Bani inserito anche perché quando ha giocato al Bologna ha fatto bene in termini di gol l'anno scorso la buttava dentro con una certa continuità per essere un difensore e magari chissà in Parma in Parma Udinese un suo colpo di testa potrebbe essere magari decisivo e portarvi tanti tanti bonus per il vostro fantacalcio detto questo ragazzi ho veramente concluso vi ricordo ragazzi di andare a vedere nel link in descrizione i nove nomi interessanti per gli scambi al fantacalcio se vi va anche lì lasciate un like oltre che a questo video e se non siete già iscritti ragazzi iscrivetevi perché per me è veramente importantissimo con questo è veramente tutto ciao ragazzi